Amici di Ciasti, però non solo top di gamma per quanto riguarda Lenovo Motorola, ma anche in particolare attenzione alla fascia media-bassa. Qui siamo con Moto E6 Plus, il primo smartphone di Motorola della famiglia E che può contare su un setup a doppia fotocamera. Ve lo avvicino, cerco di mettervelo anche a fuoco, le luci sono quello che sono. Qui abbiamo un dispositivo che negli interessi di Motorola dovrebbe sfondare nella fascia bassa e competere contro gli Xiaomi e contro la competizione che è sempre più agguerrita nella fascia bassa sotto i 200€. Qui siamo abbondantemente sotto quella cifra perché a 129€ ci si può portare a casa un dispositivo con una fotocamera, la principale a 13 megapixel e la doppia per effetto bokeh, un 8 megapixel frontale nel notch per quanto riguarda la fotocamera selfie. Abbiamo nel logo M, come siamo soliti vederlo negli smartphone di fascia medio-bassa, un lettore delle impronte digitali. Abbiamo una batteria da 3000 mAh comunque che insieme al software stock potrebbe veramente rappresentare un'ottima opzione, ricordandovi soprattutto il prezzo 129€, quindi non mi sembra per niente male anche a livello di materiale e di dettagli, quindi interessante. Grazie a tutti.